Audit Cyber Security è software per verificare il livello di sicurezza informatica dei dati aziendali. Come funziona il software? Si vanno a inserire i dati dell'azienda o delle aziende, nel caso il software venga utilizzato da consulenti, si va a inserire il numero di revisione dell'analisi, ad esempio revisione 1 del 23-3-2018 e poi dopo si procede alla valutazione. Il software lavora su una banca dati precaricata che consente di, rispondendo alle domande che propone il software con risposta sia o no non applicabile, di verificare il livello di sicurezza informatica aziendale. Quindi selezioniamo l'azienda e andiamo a rispondere ai quesiti proposti dal software. corrisposta sia o no o non applicabile. In questa demo faremo la prova sui primi 5 quesiti, il software ne contiene 21 e a questo punto, in maniera molto veloce, si ottiene l'esito della valutazione del livello di sicurezza informatica dei dati aziendali in azienda. Il software propone il livello di cyber security aziendale e propone per gli aspetti non conformi le misure correttive da applicare. La banca dati può essere personalizzata e in questo modo il software risolve il problema. Ovviamente il report può essere stampato o esportato in formato Word. Quindi il software Audit Cyber Security è un software che supporta sia l'azienda che il consulente nella valutazione dei rischi per la sicurezza informatica dei dati aziendali. È uno strumento che consente di effettuare questo controllo, questa autovalutazione in maniera molto veloce e fornisce, come abbiamo visto, poi le informazioni per rendere la gestione informatica dei dati sicura. Grazie per la tua attenzione.